Salve amici del Centro Metro Italiano, l'anticiclone protegge la nostra penisola salvo alcune eccezioni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per mercoledì 25 novembre. Tempo stabile al mattino con locali addensamenti al sud e maggiori schiarite al centro nord, dove però non mancheranno foschie o banchi di nebbia. Locali piogge tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio ancora piovigini su bassa Calabria e Sicilia orientale, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata è nottata tempo stabile ma con foschie o banchi di nebbia in Valpadana. Temperature minime in generale calo e massime stabili o in rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le revisioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.